Contro politico sulle piano delle opere pubbliche della regione Amuraglia, antenna attivata fra le proteste Fece esplodere bomba alla Psella, dopo l'ospedale scatta l'arresto Alvia il nuovo progetto di prevenzione alle truffe agli anziani Basket l'AVL strizza l'occhio agli abbonati con prezzi popolari Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Ben ritrovati sul canale 80, ben ritrovati a Rossini News Il nostro telegiornale che in questa edizione di venerdì 4 di agosto Apriamo con la politica perché ci sono forti critiche da parte dei consiglieri regionali d'opposizione Michela Vitri e Andrea Biancani nei confronti del piano triennale delle opere pubbliche per la regione Marche Reputato dai consiglieri pesaresi, fortemente penalizzante proprio per la provincia di Pesaro Urbino Al di là di tanti annunci, tanti spot, nero su bianco il piano delle opere pubbliche 2023-2025 parla E vediamo che nel totale delle risorse solo l'8% arriverà nella provincia di Pesaro Urbino Mancano tantissimi interventi che invece attendevamo in questi ultimi anni A partire dalla difesa del suolo, le infrastrutture E per ciò che riguarda l'edilizia sanitaria ci stupisce vedere che non ci sia assolutamente nulla per la provincia di Pesaro Urbino A differenza ad esempio di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo E in particolare nella nostra provincia questo 8% sarà nel triennio 24 milioni di euro circa Solo briciole, cioè un investimento irrisorio rispetto ad esempio ai 145 milioni di euro della provincia di Macerata Siamo in assoluto la più penalizzata insieme a quella di Ascoli Piceno E ci stupisce anche vedere in questo piano dove ci sono quelle opere che hanno già dei progetti Vedere che invece ci siano quelli che dovevano essere già avviati Ad esempio la difesa della costa nel fiume Foglia nella zona di Valle Foglia Questo ancora è un intervento non iniziato che appare di nuovo nel piano triennale delle opere pubbliche Mentre mancano tutte quelle strade che la giunta Quaroli Baldelli ha annunciato negli ultimi anni Una totale incapacità di progettazione e al di là, ripeto, di ogni annuncio Il piano parla chiaramente come potete vedere dalle cifre Nella nostra provincia arriveranno, comprese le somme che attendono ancora di reperire Solo poco più di 24 milioni di euro su un totale di 294 milioni di euro previsti per tutta la regione Gli annunci che sono stati fatti in questi anni sono stati tanti e i lavori sono pochi Basta pensare che nel piano triennale delle opere pubbliche attualmente ancora non sono stati inseriti Nell'ospedale di Pesero, parlo del nuovo ospedale, nelle case di comunità e negli ospedali di comunità Ovviamente non potevano essere inseriti perché non ci sono neppure i progetti preliminari Parliamo di progetti annunciati ormai qualche anno fa, addirittura con convenzioni di mesi fa Progetti che sono attualmente fuori dal piano delle opere pubbliche e quindi, come dire, i tempi saranno sicuramente lunghi Perché non c'è neppure il progetto preliminare Dall'altra parte non ci sono infrastrutture annunciate più volte come ad esempio l'intervalliva Fossombrone-Pergola O l'altra strada, la Pedemontana di Carpegna Cioè questo è un governo che annuncia che fa i progetti, in realtà i progetti non ci sono E quindi nel piano delle opere pubbliche, che è un piano dove possono entrare solamente quei progetti dove c'è almeno il progetto preliminare Dall'altra parte invece ci sono, ricordo che loro governano da tre anni, quindi non è che governano da ieri mattina E ancora ci sono opere pubbliche che avevamo messo noi nel piano terminale delle opere pubbliche Perché avevamo fatto fare i progetti preliminari Basta pensare alla cassa di espansione del Fiumefoglia, quella a Vallefoglia e quella a Montecalvo Manca addirittura, ancora c'è l'intervento di riqualificazione per il 118 e la SOI, quello legato all'emergenza E ancora lo ritroviamo nel piano delle opere pubbliche Come ritroviamo ancora la ciclovia del Metauro che doveva essere iniziata ormai già da mesi E non troviamo più per niente la ciclovia del Foglia, in particolare il tratto che collega Pesero a Montecco Ovviamente non c'è perché ancora il progetto non è stato approvato e quindi non è possibile inserirlo Quindi un piano che penalizza la provincia di Pesero Urbino Complessivamente appena l'8% dei finanziamenti, l'8% sul totale sono attualmente inseriti nel piano Per quanto riguarda la provincia di Pesero Urbino Con opere che dovevano già esserci e che non ci sono Con opere che non ci dovevano essere perché dovevano già essere iniziati Che ancora sono previste nel triennale Quindi vuol dire che non partiranno neppure nel 2023 Ma non si sa quando partiranno Prima le rassicurazioni, poi l'attivazione e ora tante incertezze all'orizzonte A Pesero non c'è pace attorno ai casi di antenne di telefonia 5G Nonostante le imminenti rassicurazioni su una prossima regolamentazione da parte delle comune di Pesero Oggi c'è stata una manifestazione al cospetto della nuova torre sorta nelle quartiere di Muraglia Speravamo, insomma, viste le rassicurazioni iniziali Che questa appunto antenna non venisse mai messa in funzione La cosa che ci rammarica è che da una parte siamo contenti Che siamo riusciti ad avere un dialogo Siamo riusciti a portare la problematica all'attenzione del Consiglio Comunale Attraverso un'interrogazione fatta appunto dalla Lega E successivamente abbiamo anche avuto appunto riscontro anche dall'assessore all'ambiente Da ultimo anche dal capo di gabinetto L'unica cosa che vorremmo sostanzialmente capire è esattamente il giorno in cui verrà attivata questa antenna E il giorno in cui verrà disattivata L'altra cosa spiacevole è che effettivamente l'installazione Non sappiamo se c'è, verrà posto appunto rimedio o no O c'è stato effettivamente un errore di installazione Su questo ci potrà rispondere soltanto effettivamente la società Che ha provveduto ad effettuare l'installazione E questo rumore appunto acustico Che è diventato veramente un problema molto serio E di cui non si fa riferimento, vi assicuro Né nel progetto né tantomeno l'ARPAM l'ha preso in considerazione Perché l'ARPAM è tenuta a dare una valutazione sul campo elettromagnatico Ho provveduto a mettere appunto a conoscenza di questa situazione Tutti gli organi dell'amministrazione comunale Indifferentemente di maggioranza, di minoranza E su questo abbiamo avuto appunto solidarietà La cosa che voglio appunto mettere in evidenza È che non siamo dei bacchettoni, non siamo dei fanatici Non è che effettivamente protestiamo Facciamo delle proteste senza senso Il punto è che qui abitano molte persone anziane Che trascorrono maggior parte del tempo appunto dentro casa C'è un asilo dove ci sono dei bambini Che trascorrono gran parte della giornata dentro appunto la struttura Io stessa sono malata oncologica Vi assicuro che dopo aver passato 3-4 ore in oncologia Tornare a casa e non avere appunto neanche il riposo e la pace Poter godere il riposo e la pace della propria abitazione Vi assicuro che è una cosa effettivamente terrificante Oggi sono qui perché ci si ritrova questa antenna In una zona molto bella della città Che chiaramente comporterà da un lato Un problema sicuramente di onde elettromagnetiche per la salute C'è un asilo vicinissimo E la svalutazione di questi immobili Quindi queste persone hanno tutto il diritto di essere ascoltati E' ora di finirla con questo sistema delle antenne Che nascono da un giorno all'altro C'è una mancata programmazione da parte del Comune di Pesaro Il piano antenne ci dicono che è in fase di progettazione con un nuovo studio E quindi io chiedo almeno che in attesa del nuovo piano Si congeli subito questa domanda, questa situazione Affinché questi cittadini possano un attimino avere il tempo anche di difendersi Con tutti gli strumenti anche legali del caso Per cercare veramente a garantire la loro salute e il valore dei loro immobili Questa antenna produce a livello di danno materiale e sociale Perché le nostre abitazioni, le nostre proprietà si sono svalutate almeno il 40% Quindi possiamo accettare una cosa del genere? La richiesta è che venga bloccata come le altre antenne che sono state richieste quest'anno Da parte delle varie compagnie di telefonia Sono state tutte temporaneamente sospese Per il tempo che la Polab, un'azienda incaricata dal Comune Per fare il nuovo piano antenne, il nuovo piano regolatore Quindi noi chiediamo che come le altre questa venga sospesa Perché noi siamo cittadini come gli altri Quindi la sospendete anche questa per 4 mesi E poi quando ci sarà il nuovo piano antenne Se voi ritenete, ma a questo punto non credo proprio che questo sia un sito idoneo Ok, la mettete, fissa però Non questo totem, la voglio fissa Sono passati quasi due mesi da quando lo scorso 10 giugno Nella frazione Montelabattese della Psella Scoppiò all'ora di pranzo un ordigno rudimentale Che gettò panico nel territorio e che mutilò gravemente l'autore di quella bomba Ovvero il 37enne Ion Olteanu Che ieri, dopo recenti dimissioni dall'ospedale Si è presentato in tribunale a Pesaro Portando i segni di quella terribile deflagrazione In cui ha perso entrambe le mani Un occhio, mostra ferite su tutto il corpo E una gamba ingessata e inoperabile a causa di un'infezione Interrogato in tribunale Olteanu ha detto di non ricordare nulla di quel giorno E di non sapere nulla nemmeno degli esplosivi Il sospetto concreto è che creasse ordigni Per far saltare Bancomat a scopo di rapina Il tribunale questa mattina ha formalizzato gli arresti domiciliari In casa della sorella di Olteanu Per il concreto pericolo di fuga in Romania Intanto i carabinieri cercano un complice Fuggito al momento della deflagrazione di quel 10 di giugno Prevenire truffe e raggiri agli anziani pesaresi Purtroppo sempre più frequenti Vediamo in tal senso l'ironica ma istruttiva Campagna di sensibilizzazione del comune Realizzata assieme alle forze dell'ordine L'abbraccio di un truffatore Che si finge vecchio conoscente o amico del figlio o del nipote Mandando in confusione l'anziano e raggirandolo Una scena sempre meno inusuale nel territorio pesarese Che ora diventa uno spot per prevenire simili truffe Sicuri di essere al sicuro È la prosecuzione di una campagna di sensibilizzazione Avviata da anni dal comune di Pesaro E che si rafforza con la collaborazione di Polizia di Stato Polizia Locale, Carabinieri E col finanziamento ministeriale di 17.000 euro Grazie alle forze dell'ordine Abbiamo approfondito la questione Per però presentarla al pubblico In maniera semplice e leggera Perché è importante arrivare a più persone possibili E fare una comunicazione che sia incisiva Quindi il video lo è Perché c'è poi il bravissimo Carlo Pagnini Che è un'istituzione a Pesaro Insieme ai bravi ragazzi, attori della piccola ribalta Ecco, vogliamo comunicare un tema importante in maniera leggera Può capitare che gente mai incontrata prima Si avvicini a voi inventando storie Fingendosi qualcuno che non è Non dateli mai corda Fidatevi sempre, è solo di voi stessi Se non ve lo ricordate È perché sicuramente non lo conoscete Se dovesse capitare anche a voi Non vergognatevi E denunciate immediatamente Il furto alla forza dell'ordine Quella a cui avete assistito in pochi minuti È una storia ordinaria Quello che normalmente può succedere Può accadere in strada Utilizzate i numeri di emergenza Se vedete qualcosa che non vi convince È chiamate senza problemi È quello che è un racconto Diventa fattoriale e consolidato per la città Mi raccomando, chiamatevi Questa è proprio la classica modalità di truffa Che è stata individuata proprio nel territorio pesarese Per noi è molto importante che chiami subito Appena si rende conto di aver subito il fatto Perché in questo modo si attiva subito la macchina Della polizia di stato Delle forze dell'ordine E si può individuare subito anche il malfattore È importante che cerchi di ricordare Come è vestito Se uomo o donna Le fattezze Perché in questo modo Anche grazie alle nostre squadre volanti Possiamo individuare subito il truffatore Ed è importante per noi che l'anziano O la vittima faccia questo E non si senta e non si vergogni di farlo Perché si gioca anche molto su questo Sulla percezione di sé Una persona si sente truffata Si sente lei colpevole di essere stata vittima Di un reato commesso da altre persone Invece a tutti può capitare Giovani, anziani Quindi l'importante è che chiamino subito le forze dell'ordine Solo facendo così siamo sicuri Di essere sicuro C'è anche la baia imperiale di Gabice Mare Fra le sei discoteche scelte dal Ministero dei Trasporti Per il progetto sperimentale Che nell'ambito delle iniziative sulla sicurezza stradale Ha stanziato fondi per pagare il taxi A chi, sottoponendosi all'alcol testa all'uscita dei locali Superi il limite previsto per mettersi alla guida Un caso che fa scattare il fatto Che la persona può essere riportata a casa Così come le persone che accompagnava gratuitamente Saranno i locali di intrattenimento Come la baia imperiale Previa convenzione con le compagnie locali di tassisti A fornire i voucher in questione Un progetto sperimentale che ora riguarda I primi sei locali notturni E il periodo che va ad agosto A metà di settembre Dalla costa alle aree interne Ci occupiamo della madre di tutte le incompiute Che però potrebbe smettere di essere definita come tale È stata infatti fissata per venerdì 11 agosto Ovvero tra una settimana esatta La gara per avviare il cantiere di riapertura Della Galleria della Guida Tra Mercatello sul Metauro e San Giustino Un cantiere che prevede una riapertura monodirezionale A senso unico da Mercatello E con limitazione al transito dei veicoli Una gara che prevede entro l'autunno l'affidamento del cartiere Per far partire i lavori alla guinza nel 2024 Lavori da ben 130 milioni di euro Che dureranno due anni e mezzo E ora parliamo di eventi Rombano i motori per l'edizione 2023 di Epoca by Night La serata che è martedì 8 agosto È pronta ad onorare l'estate da capitale di Pesaro E della terra dei piloti dei motori L'evento è un concorso ASI di eleganza Sostanzialmente l'ASI durante l'anno Dà la possibilità ai club di organizzare questa manifestazione Dove arrivano tre giudici Che mandano direttamente loro Che devono giudicare queste auto Per una serie di cose Innanzitutto lo stato di conservazione La qualità dell'eventuale restauro E poi valuteranno anche altri aspetti Che possono essere il motore come conservato Gli interni se sono stati rifatti o meno Quindi alla fine viene dato un punteggio Hanno aderito 45 auto Alcune molto importanti Delle macchine che i possessori custodiscono gelosamente Perché magari ce ne sono soltanto tre in tutto il mondo Ce ne sono dieci Oppure una versione molto particolare Che ha soltanto magari delle cromature diverse dalle altre Quindi ogni macchina ha una sua storia La manifestazione consiste nel posizionare le macchine sul prato Ci saranno tutte le caratteristiche esposte delle macchine A disposizione innanzitutto dei giudici che devono valutarle Ma anche dei turisti che vogliono vederle E potranno riconoscere singolarmente ogni macchina Quindi i giudici passeranno a controllare ogni singola macchina Dopodiché esprimeranno questo giudizio Alle macchine vincitrici verrà apposta una coccarda Dopodiché queste macchine sfileranno Tutte e 45 macchine Verranno presentate da uno speaker che racconterà la storia di queste macchine E alla fine di questo verranno date le coppe alle 13 categorie Alla fine della manifestazione diremo quale sarà la macchina best of show Che verrà premiata e quindi farà una seconda sfilata Per presentarla al pubblico E per applaudirla e farla vedere meglio Al porto di Pesaro il molo di Levante e quello di Ponente Si trasformano in una delle opere di street art urbane Realizzate da un solo artista più lunghe d'Europa Misura infatti oltre 800 metri lineari e 1700 metri quadrati Il murale realizzato dal portoghese Azul Dedicato alla natura della cultura di Pesaro 2024 All'interno delle murales che si chiama Ancora Sono riportate varie icone della città di Pesaro Come il faro, la palla di pomodoro e le ceramiche L'opera è seguita dal progetto tecnico di Bartoli Vernici E verrà completata a settembre Ed ora Montecchio di Vallefoglia Dove si riderà per 5 sere consecutive Con il primo festival delle commedie dialettali Per una settimana nel cuore d'agosto La nuovissima piazza del municipio di Montecchio Diventa teatro dell'Evernacolo del territorio Dal 7 all'11 agosto si ride con il primo festival delle commedie dialettali Che alle 21 porterà per 5 sere divertimento assicurato Ad ingresso gratuito con le compagnie del territorio Si comincia lunedì 7 agosto con le pillole di comicità Della compagnia pesarese Farofollie Per poi proseguire con i senza prescia di Mondaino Che proporranno Efeva Ben Neron A seguire i rimediati di Borgo Bassano con Toda di Naroba La compagnia urbinate APS che presenterà l'Arplit E il sipario che si chiude venerdì 11 agosto Con la compagnia Improvvisando di Vallefoglia Che metterà in scena il fidanzato della fidanzata Ed ora facciamo un salto in avanti Verso gli eventi dell'autunno E in particolare verso le fiere del tartufo Gioca d'anticipo infatti quella di Pergola Che lancia accattivanti soggiorni gourmet per ottobre Aspettando la 26esima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola Che si terrà nelle prime tre domeniche di ottobre La città dei bronzi dorati lancia i weekend e soggiorni gourmet Nuove proposte di valorizzazione territoriale all'insegna del gusto Presentate al ristorante Nostrano di Pesaro di Stefano Ciotti Uno dei sei chef stellati marchigiani Che assieme a Pierpaolo Ferracuti, Enrico Mazzaroni Davide Di Fabio, Nikita Sergeev e Enrico Recanati Animeranno i Pergola Truffle Show L'impegno quest'anno è a cogliere ancora maggiormente l'occasione Della fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola Per far sì che sia occasione non solo per venire a Pergola per una giornata Ma per trascorrere un fine settimana importante Un fine settimana alla scoperta delle eccellenze del territorio nella nostra zona Quindi ecco sarà sicuramente un'ottima occasione per gustare i nostri tartufi Ma non solo per scoprire un territorio che è veramente tanto da dare Abbiamo deciso di organizzare questi pacchetti Che partiranno appunto il venerdì, salve e domenica Nei primi tre weekend di ottobre Proprio per ampliare l'offerta della nostra fiera E mettere in mostra non solo ovviamente le eccellenze culinarie Grazie appunto a questa collaborazione con i sei chef stellati Che Latim aveva già messo insieme in occasione della bit di Milano Ma anche mostrare quelle che sono poi le nostre bellezze paesaggistiche Culturali e storiche Come ad esempio i nostri Oltre ecco all'oro della terra Abbiamo un altro oro importantissimo per noi Che sono i bronzi dorati Che sono custoditi in questo nostro bellissimo museo E sono unici al mondo Nelle Marche vi è un progetto ormai molto nitido Che tartufo tutto l'anno nelle Marche Quindi in ogni stagione, in ogni mese abbiamo una pepita differente Che dobbiamo tenere in alta considerazione come i grandi pregiati Perché il tartufo è un'espressione di madre terra I cuochi lo sanno conciliare molto bene Sei chef stellati da Monte Cosar Da Gabice fino ai Sibillini Riusciamo a raccontare un messaggio particolare Per sei volte a Pergola si racconterà un messaggio di turismo Di cucina, di tartufo, di grande eleganza E io dico anche di marchigianità piena Che sa accogliere l'ospite, il turista e il gourmet Non solo tartufo bianco pregiato Ma anche una pasta ad esso perfettamente abbinata Ovvero i maccheroncini della fermana Campofilone Unica pasta all'uovo IGP d'Europa Ci teniamo in modo particolare a questo prodotto E soprattutto ci teniamo ad accoppiarlo Noi chiamiamo matrimoni del gusto Con dei prodotti di altrettanta qualità Come il tartufo bianco di Pergola Quindi questa occasione è per promuovere questo connubio Che avverrà poi nei prossimi mesi Perché significa promuovere il territorio Promuovere le attività del territorio E quindi portare lavoro ed economia anche nei nostri piccoli borchi E concludiamo con lo sport Lunedì 7 agosto la Vispesero conoscerà il calendario di Serie C 2023-2024 Come annunciato oggi dalla Lega Pro Che come era preventivato Ha posticipato di una settimana L'inizio del torneo di Serie C Che comincerà domenica 3 di settembre Come noto invece comincerà il primo di ottobre La Serie A di basket E in tal senso andiamo a conoscere La nuova campagna abbonamenti Della Carpegna Prosciutto Basket Pesero In vista del campionato 2023-2024 Il sesto uomo siete voi Non solo uno slogan Ma un atto di riconoscenza verso i propri tifosi Che la VL ripaga con abbonamenti a prezzi ribassati Di circa il 10% In vista del campionato 2023-2024 Si parte dalle tariffe popolari Di 110-135 euro per la curva E dei 120 euro per il parterre fanzone E poi ancora Tribuna spicchi 225 euro Laterale 315 Centralissima 360 Parterre 600 Poltroncine VIP 1500 Un risparmio in alcuni casi Più che dimezzato sui singoli biglietti Che saranno di 20 euro in curva 35 in tribuna 60 in parterre E 100 in poltroncina Abbonamenti che andranno incontro ai tifosi Regalando a tutti una sciarpa E dando pure la possibilità di rateizzare l'acquisto Per chi possiede un conto corrente alla banca di Pesaro Storico sponsor della VL Crediamo di aver fatto questo sforzo Perché riteniamo che il nostro pubblico Li vogliamo molto bene Lo vogliamo sempre presente Lo vogliamo che ci aiuti Che ci aiuti per trascinare la squadra Per fare tante cose importanti E quindi abbiamo pensato che forse Era meglio Andare incontro appunto In un momento dove Tante fatiche si fanno Per tirare avanti la baracca Andare incontro ai tifosi E rendere onore alla loro memoria È il caso delle compianto Marco Piccoli Anima dell'Inferno Bianco Rosso Al quale verrà intitolato il settore K E al quale è stato dedicato Un minuto di silenzio Durante la conferenza di presentazione Degli abbonamenti Tenutasi all'hotel Baia Flaminia Marco è stato Poi parlo io E come potrebbe parlare Walter E tanti altri Lo abbiamo vissuto per tantissimi anni Come una persona simbolo di Pesaro E quindi credo che meriti Questa intitolazione Lo ha sempre meritato E speriamo che da lassù Possa rendersi conto Che lo stiamo sostituendo Benino Sarà invece intitolata All'indimenticato Alfonso Ford La cosiddetta Fan Zone Novità dello scorso anno Per quanto riguarda gli abbonamenti Saranno mantenute le promozioni family E porta un amico Nell'ottica della nascente Casa VL Ci sarà uno sconto del 10% Per chi è abbonato alla piscina Facchini Così come ci sarà la possibilità Dell'acquisto di un tavolino Per quattro persone Nel settore N4 La campagna abbonamenti Partirà il 24 agosto Con le prelazioni ai vecchi abbonati Dall'11 settembre Via alla vendita libera In tutti i posti Il campionato inizierà Il primo ottobre a Brescia E avrà il battesimo a Pesaro L'8 ottobre con Venezia Sì È tosto È tosto Ma ci faremo trovare pronti Vediamo un attimino Ci faremo trovare pronti Credo che Tanto Io credo che Le squadre più forti Si possono incontrare Se si possono incontrare Prima è meglio Un calendario Da aggredire Con un roster completato In tempi celeri Contenti della campagna Giocatori Credo che ci sia Un bel mix Tra gioventù ed esperienza Quindi Aspettiamo soltanto Di partire Con il ritiro Per cominciare a sudare E a lavorare E con lo sport E gli abbonamenti Della VL Concludiamo Questa nostra edizione Delle telegiornale Rossini News Ma prima di salutarci Vi ricordiamo Alcuni appuntamenti Di questo venerdì Sulla nostra emittente Subito dopo il TG Alle 20 Per chi ci segue Nella prima edizione Delle telegiornale Va in onda Il nostro speciale Realizzato a Montelabate In occasione Della settantasettesima Edizione Della tradizionale Sagra delle Pesche A seguire Alle 21 E 20 Spazio alla moda Alla bellezza All'eleganza Con la seconda edizione Di Donna Live In Beauty Quando la moda E la tradizione Incontrano la cultura Un appuntamento Andato in scena Domenica Al ristorante Pizzeria Dancing La Giara Con sfilata di moda Over e curvi Ed elezioni Di Miss Giara Estate 2023 E poi Alle 21 E 40 Parleremo Di economia A un mese esatto Dalla convention mondiale La 32esima Tenuta Si accoglie Del tronto Che ha radunato Le Camere di Commercio Italiane All'estero Verranno presentati I risultati Della Camera Di commercio Delle Marche Appuntamento Come detto Alle 21 E 40 E poi vi ricordo Domattina Sabato 5 Agosto L'appuntamento Con Buongiorno Rossini La nostra Rassegna stampa Dei quotidiani Locali Locali Come sempre In diretta A partire Dalle ore 7 E 20 E invece Si conclude Qui l'informazione Di Rossini News Da parte mia E di tutta la redazione Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Una buona serata E un buon weekend In compagnia Dei nostri programmi